La cosa importante da sottolineare di questo showroom è che deve essere un'area a disposizione veramente di tutte le parti coinvolte all'interno della trattativa con Samsung. Quest'area ha la possibilità di essere prenotata anche da remoto, quindi via internet da parte di utenti o clienti che volessero visitarla e quindi è proprio una risorsa che come senso mettiamo a disposizione del mercato per scoprire le tecnologie e poter imparare a utilizzare queste tecnologie. Smart Signage perché lo chiamiamo così? Perché Smart lo dice la parola stessa, deve essere qualcosa di intelligente, qualcosa di furbo che di fatto risponde alle nostre esigenze senza che quasi ce ne accorgiamo. Qual è il concetto di Smart Signage? Ovviamente legare tutto quello che è la nostra tecnologia hardware in termini di schermi a una piattaforma software che sta dietro, che è invisibile, che gestisce i contenuti che vengono veicolati su questa piattaforma. Ci sono anche soluzioni che noi chiamiamo stretch, quindi gli schermi allungati che hanno delle misure poco convenzionali rispetto a quello che si conosce di schermi domestici e questi tipi di schermi vengono utilizzati per sorprendere un pochino il cliente, quindi per raccontare il prodotto ma con un formato del display un pochino inusuale, fino ad arrivare alle etichette elettroniche. Le etichette elettroniche sono la nuova frontiera di segnaletica del prezzo sugli scaffali, hanno il grossissimo vantaggio di poter essere aggiornate da remoto in tempo reale e quindi potenzialmente un supermercato può cambiare il prezzo di tutta la sua gamma prodotti anche 10 volte al giorno schiacciando un click all'interno del terminale a punto di controllo. Un'altra tecnologia molto interessante che stiamo proponendo al mercato retail è quella dei display a specchio. I display a specchio sono estremamente apprezzati e richiesti nel mondo della moda perché sono il connubio perfetto tra uno specchio utilizzato in modo tradizionale quindi per provarsi gli abiti e diciamo quello che si chiama cross-selling o up-selling, quindi di fatto la possibilità mentre ci si specchia di ricevere dei suggerimenti dallo specchio stesso perché ovviamente dietro c'è un monitor quindi un computer che in base a quello che si sta indossando propone come degli abbinamenti o magari dei prodotti di fascia più alta della stessa categoria quindi permette al negoziante di inserirlo magari in un camerino, i cosiddetti camerini virtuali e di assistere il cliente nel processo d'acquisto tramite appunto uno specchio che lo guida e lo aiuta nelle scelte. Nel mondo retail sempre più ci richiedono forme di digitalizzazione anche dell'ambito cassa quindi quelli che erano i tradizionali banconi dove si arrivava per pagare lo scontrino stanno trasformando in questi tavoli digitali che vediamo qui che trasformano per l'appunto un banale oggetto di arredamento in uno strumento di vendita perché permettono di fatto di proporre opzioni in più fino all'ultimo momento, fino a quando si sta pagando oltre ovviamente a connettere la tecnologia che c'è all'interno del display con il registratore di cassa quindi banalmente si può fare shopping, ultimare il proprio shopping all'interno del display e poi comunque lanciare lo scontrino e quindi chiudere la vendita direttamente dallo schermo della cassa. In quest'area presentiamo tutte le soluzioni legate al mondo dell'hotellerie quindi l'ospitalità a tutto tondo, quindi per la parte di hospitality display quindi tutti i televisori che vengono posizionati nelle camere degli hotel che non sono dei semplici televisori ma sono degli strumenti che permettono di entrare in contatto con tutti i servizi dell'hotel quindi dalla pronotazione alla spa, alla pronotazione della cena o tutti gli altri servizi che l'hotel può offrire oltre a fornire tutta una serie di informazioni legate per esempio alle notizie al meteo del giorno e del giorno successivo e tutte eventuali comunicazioni che devono essere fatte all'utente oltre ovviamente al mondo degli hospitality display c'è tutto il mondo dello smart signage pensato per l'hotellerie che veicola magari nelle reception o nelle sale e riunioni o contenuti oppure è funzionale alle riunioni stesse che devono tenersi all'interno di quelle aree quindi viste tutte queste soluzioni l'invito è veniteci a trovare potete registrare la vostra visita sul nostro sito samsung.com vi aspettiamo e vi racconteremo ovviamente con entusiasmo tutta la tecnologia Samsung e quello che potete fare con noi